Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo brevissimo video in cui pubblico l'ultimo girone, si dico l'ultimo perchè una volta terminato questo turno ci sarà la top 4 con i migliori 4 giocatori appunto che si giocheranno la semifinale, la finale con l'eliminazione diretta suppongo non ho pubblicato ieri il gironi perchè come potete notare qui sotto ho aperto il box di force of wheel con il mio team dato che era anche sceso il mio compagno di team appunto da milano e ci siamo incontrati e non ho avuto tempo perchè la sera è rimasta anche la mia ragazza qui e non ho avuto proprio tempo per fare il video comunque i results dello scorso turno, del turno precedente li metterò come sempre a fine video ora abbiamo Matic Generation contro Sildagra, Yangus contro Nat, Verde contro Simone del team Shadow Master, Niko Chaos contro Yu-Gi-Oh! 0 Italy 092 e infine Dark Fury Team contro Riccardo del team Shadow Master stavolta però tanto che siamo un po' nelle vacanze pongo il terminal diciamo così dovete darmi i results entro domenica sera così che lunedì posso filmare tranquillamente lunedì se ci siete ovviamente posso filmare le semifinali e le finali e martedì mattina ci sono perchè il pomeriggio forse devo andare a un torneo di force of wheel per la prima volta e vabbè questo quindi ricordatevi entro domenica entro domenica sera se riuscite anche entro oggi domani o dopo domani un po' è anche colpa mia che ho dato nel ritardo dei results e c'è i gironi e nulla faccio questo video velocemente quindi lasciatemi un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale contattatemi se non vi è chiaro qualcosa e arrivederci e al prossimo video ciao